Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carta e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Iniziamo subito con una preghiera di protezione, vi chiedo di chiedere all'arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi, potrebbe essere solo uno, due o tutti e tre. Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, il Sé superiore di tutte le persone che stanno ascoltando la lettura angelica. Invoco a te, arcangelo Michele, coscienza micaelica, Gesù Maria Maria Maddalena e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e di incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo che la nostra energia sia radicata fino al centro della Madre Terra e chiedo uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo luce, amore, pace e guarigione. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Iniziamo la nostra lettura angelica. Come state? Questa è la settimana di Ferragosto, molto, molti di voi sono in vacanza, godetevi le vacanze, ci vuole. Allora, credi nei tuoi angeli, dice, per il gruppo A, ok? Gruppo B, assolutamente c'è un messaggio per te, poi andiamo a vedere che tipo di messaggio, ok? Gruppo C, non avere paura, vediamo Michele. gruppo A, perdona te stesso, non hai fatto niente di male. Gruppo B, senso dell'umorismo. Due carte, difesa e protetto e prendi un impegno. Gruppo C, no scusa, scusate, terzo mazzo, gruppo A, iniziamo dal gruppo A. Andiamo un po'. Ne sono uscite un po' troppe. Gruppo A, espansione. Gruppo B, immaginazione. Gruppo C, celebrazione. Celebrare. Bene, bene. Vediamo un po', iniziamo con la nostra lettura angelica. Allora, gli angeli stanno dicendo di fidarti della tua intuizione, di quelli che senti essere i loro messaggi, la loro guida e la loro assistenza, loro sono accanto a te, ti stanno guidando in questo momento molto particolare della tua vita, va bene? Non focalizzarti sul come i tuoi sogni e i tuoi obiettivi diventeranno realtà, ma abbi fede, abbi fiducia che veramente l'universo ha un piano divino ben preciso, veramente che si sta per manifestare nel modo più giusto per te, nel modo più sincronico e perfetto per te, quindi lascia andare il controllo, non ti serve. Affidati e fidati che tutto si sta manifestando nel modo giusto e al momento giusto, ok? Gli angeli ti stanno invitando a fare un lavoro sul perdono, perdona te stesso, te stessa, non hai fatto niente di male, però il perdono ti serve per guarire il cuore, per lasciare andare le ferite del passato, per chiudere col passato, per chiudere con questo ciclo della tua vita che ormai è passato. Stai continuando a concentrarti su eventi passati che ormai non servono in più il tuo massimo bene. È venuto il momento di espandere gli orizzonti, di espandere la tua energia, di innalzarti, di elevarti, di vibrare nella frequenza della gratitudine, della gioia. Ringrazia per quello che desideri come che lo hai già ottenuto. Inizia a lavorare sulla manifestazione dei tuoi sogni con gratitudine e gioia, va bene? Diciamo che è venuto anche il momento di condividere quelli che sono i tuoi messaggi con gli altri. Parla la tua verità, cioè è venuto il momento di dire quello che è giusto, quello che senti essere vero, va bene? Praticamente è venuto anche il momento di mostrare al mondo chi tu sei, scusate, nella tua completezza, nella tua totalità. Il perdono ti servirà per guarire l'immagine distorta che hai di te stesso, del mondo e della realtà. È venuto il momento appunto di allinearti ad energie positive, a mostrare il tuo potere anche all'esterno. Smettila di nasconderti, vieni, agisci nella direzione, giusto? Inizia con piccoli passi. Per poter raggiungere i tuoi obiettivi sono necessari piccoli step. Non hai bisogno di fare passi da gigante inizialmente, basta un passo nella direzione dei tuoi sogni, ok? Bene, ora passiamo al gruppo B. È venuto il momento di mostrare al mondo chi tu sei, anche qua. Di mostrare la tua saggezza, di mostrare la tua luce, la luce angelica che è dentro di te, che è fuori di te, che ti sta, cioè il tuo essere ha bisogno di espandersi, di innalzare le tue frequenze. Vedi, sembra molto simile alla lettura A, vuol dire che anche voi avete bisogno di fare questo, di uscire dal dramma, di uscire dalla paura, dalle incertezze, dal giudizio, dal controllo. È venuto il momento di lasciare andare, di concentrarti nella gioia, nell'allegria, nella spensieratezza. Ridi un po' di più, abbi più senso dell'umorismo, guarda dei film comici, ridi con i tuoi amici, scherza, gioca la vita perché ti stai prendendo un po' troppo sul serio. Invece c'è proprio bisogno di quell'energia giocosa che è dentro di te, falla emergere, falla uscire fuori perché questo ti consentirà di connetterti con la tua intuizione, con il tuo sé superiore, con i tuoi angeli, col divino che è dentro di te. L'immaginazione creativa arriva da una mente connessa al cuore, all'anima e alla gioia, va bene? Dati il permesso di sognare in grande e soprattutto apriti alle infinite possibilità. Ok? Bene, passiamo al gruppo C. Non avere paura, non aver paura di agire, non aver paura di osare, non aver paura di parlare, non aver paura di fare quell'azione che sai che devi fare, ti senti che gli angeli ti stanno spingendo, la tua anima ti sta spingendo in una certa direzione, cerca di andare avanti, vai avanti e non guardarti indietro, non fermarti perché questa è la direzione giusta, va bene? La paura arriva dall'ego, la paura è ego, il coraggio, la determinazione è l'anima, il potere che è dentro di te, va bene? L'arcangelo Michele ti sta dicendo che lui ti sta schermando, sta tagliando tutte le corde tra te e tutto ciò che ti sta impedendo di agire nella direzione giusta, tu sei difeso, sei protetto, sei protetta, sei al sicuro, agisci e non temere che sei veramente guidato, guidata in questa direzione, ok? Prenditi un impegno con l'arcangelo Michele, fai un atto di umilità, chiedi con umilità, aiuto, cerca di, come dire, di mandare intenzioni pure di amore, col cuore, con pace, con armonia e con gioia, chiedi guida d'assistenza all'arcangelo Michele, l'arcangelo Michele ti sta guidando nella direzione giusta, infatti, appunto, c'è una carta molto positiva questa, si tratta di festeggiamenti, va bene? Di celebrare il successo, va bene? Perché assolutamente è garantito e assicurato un esito positivo a quelli che sono i tuoi progetti, a quelli che sono le tue aspettative, a quelli che sono le risposte che stai aspettando, quindi celebra il tuo successo, perché veramente grandi cose stanno arrivando nella tua bellissima vita. Bene, anime infinite, prendiamo anche un messaggio dal libro, dal libro del futuro, chiediamo guida d'assistenza agli angeli, all'arcangelo Michele, qual è il messaggio più giusto, chiedo massima protezione, guida d'assistenza, per me e per tutte le persone coinvolte, così è. Ci sono mille sentieri diversi per raggiungere la metta, ci sono innumerevoli soluzioni per risolvere un qualunque problema, ci sono tantissime strade che conducono al proprio futuro, la migliore comunque è quella che si sceglie ascoltando il proprio cuore, quella che si comincia abbandonando la paura e il giudizio degli altri. Bene, anime infinite, cercate di avere il coraggio di agire nella direzione dei vostri sogni, non ascoltate chi vi scoraggia, non ascoltate chi vi demoralizza, chi vi butta giù, chi dice che è troppo grande il vostro sogno, ascoltate il vostro cuore e agite nella direzione giusta per voi e per il vostro massimo bene. Anime infinite, io vi saluto, vi auguro un peragosto meraviglioso, tanta tanta luce, per chi vuole iscriversi al corso di guarigione di nuove settimane, per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, è veramente un percorso molto potente di autoguarigione, che ti consentirà di guarire te stesso o te stessa, e di imparare a facilitare la guarigione sugli altri con le nuove frequenze di luce. Non solo faremo un grande lavoro con Logos Sealing per sciogliere tutti i blocchi che ti stanno impedendo di raggiungere l'abbondanza che meriti e di cui sei degno e degna per diritto di nascita, andremo a fare un grande lavoro con Logos Sealing e sarai in grado di praticare Logos su te stesso, su te stessa e sulle altre persone. Ragazzi, veramente è un percorso straordinario, guardate alla fine di questo video le testimonianze di tutti coloro che hanno partecipato ai miei corsi di guarigione, invece per quanto riguarda il percorso di connessioni angeliche, inizierà a metà novembre, sono aperte le iscrizioni anche per questo corso meraviglioso, quindi assolutamente se sei interessato o se sei interessata, puoi contattarmi. Io vi saluto e vi auguro una settimana strepitosa. A presto, ciao!